amè gloria a dio il signore buono e noi vogliamo tutti rispondere eccomi manda me signore noi siamo consapevoli che andare diciamo in questa parte del mondo non è che lì ci aspettano con le bandierine il tappeto rosso ma e quando tu decidi di seguire e fare la volontà del signore sappi che il mondo ti odierà per questo però il signore ci ha chiamato a rinunciare a noi stessi per seguire lui come lui ha dato la sua vita per noi noi questo vogliamo fare fratelli come dicevo prima non tutti siamo chiamati andare dall'altra parte del mondo però tutti quanti noi vogliamo rispondere alla chiamata del signore per la nostra vita in quello che il signore chiede a ognuno di noi individualmente noi vogliamo rispondere eccomi manda me quando noi rispondiamo mi rispondiamo eccomi manda me stiamo dicendo io rinuncio a me stesso per seguire te signore però questa è la scelta migliore della nostra vita fratelli e questi tempi difficili che stiamo vivendo perché sappiamo benissimo da due anni difficili e anche le ultime notizie ci fanno capire che veramente siamo gli ultimi tempi ci deve incoraggiare ancora di più fratelli la nostra vita quel tempo che il signore ci dà che non sappiamo nemmeno quanto è lungo questo tempo ma quel poco tanto tempo che dio ci dà spendiamolo per fare la volontà del signore fratelli è la scelta migliore che ne possiamo fare nella nostra vita perché quello che noi stiamo vivendo oggi anche le prove le difficoltà non sono per nulla paragonabili allo smisurato peso eterno di gloria noi apriamo lassù in cielo fratelli e noi vogliamo ringraziare il signore per questo amen vogliamo adesso accostarci a prova di dio non voglio prendere altro tempo leggerò lo stesso brano colletto anche prima al primo punto in atti capitolo 16 dal versetto 16 atti capitolo 16 dal versetto 16 al versetto 24 addiosi alla gloria mentre andavano al luogo di preghiera incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione facendo l'indovina essa procurava molto guadagno ai suoi padroni costei messasi a seguire paolo e noi gridava questi uomini sono servi del dio altissimo e vi annunziano la via della salvezza così fece per molti giorni ma paolo infastidito si voltò e disse allo spirito io ti ordino nel nome di gesù cristo che tu esca da costei ed egli uscì in quell'istante i suoi padroni vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita presero paolo e sila e li i pretori dissero questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare la folla insorse contro di loro e i pretori strappate loro le vesti cominciarono comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo aver dato loro molte vergate li cacciarono in prigione comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente ricevuto tale ordine egli rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi amena dio sia la gloria questo brano ci parla appunto quando l'apostolo paolo era nel suo secondo viaggio missionario è una cosa che anche a me personalmente mi è sempre piaciuta che noi notiamo nella sua vita che lui ecco faceva questi viaggi che erano dei viaggi imprevedibili immaginiamoci ecco tutti questi posti dove lui andava e lui non sapeva quelle le cose che accadevano non è che poteva programmarle o prevederle ma spesso capitavano colpi di scena insomma eventi inaspettati si poteva aspettare di tutto era sicuramente una vita imprevedibile piena di diciamo di imprevisti però nonostante questo il signore l'ha sempre accompagnato protetta provveduto ai suoi bisogni l'ha guidato ha guidato anche i suoi passi nelle decisioni che prendeva e questo ci deve incoraggiare fratelli che noi nella nostra vita al di là di quello che noi ovviamente dicevo anche prima ovviamente noi viviamo uno stile di vita completamente diverso rispetto a quei tempi però anche noi oggi che tante volte noi ci preoccupiamo di programmare ben definire tante cose la nostra vita noi vogliamo ricordarci che la cosa più importante è seguire il signore cioè cercarlo con tutto il nostro cuore vogliamo fare la sua volontà in giudici non so se vi ricordate quando il signore chiama gedeone lo manda in battaglia lui andrà in battaglia con appena 300 uomini e sconfiggeranno un esercito grande questa battaglia che lui fa lui ascolta la voce del signore e non era ancora giudice di israele spesso noi ci dimentichiamo di questo dettaglio che non è un dettaglio da poco gedeone prima è andato in battaglia poi dopo è stato nominato giudice di israele non so quanti oggi l'avrebbero fatto oggi abbiamo tempi dove noi prima vogliamo essere nominati giudici di israele permettetemi di usare questo esempio poi dopo siamo pure disposti ad andare in battaglia noi vogliamo seguire le indicazioni di dio nella nostra vita cercate il signore e con tutto il vostro cuore matteo 6 33 cercate prima il regno e la giustizia di dio e tutte queste cose vi saranno date in più questo per dire certo noi dobbiamo ovviamente lo facciamo ed è buono programmare ogni aspetto pratico anche della nostra vita è saggio però noi vogliamo preoccuparci di tutto di fare la volontà di dio poi il signore provvederà tanti aspetti anche pratici della nostra vita e l'apostolo paolo non è un esempio è scritto appunto che abbiamo letto che al verso 16 mentre andavano al luogo di preghiera per l'apostolo paolo questo luogo di preghiera era l'unico diciamo appuntamento che lui non poteva mai mancare cioè per lui era importante avere questo appuntamento di comunione col signore non tanto in termini di un luogo fisico e qui dove loro si incontrano in questo luogo di preghiera probabilmente era all'aperto non era un luogo prettamente magari che diremmo noi di preghiera non era una sinagoga di quel tempo ma era un luogo dove si riuniva con dei fratelli e delle persone a pregare il signore realizzavano la presenza del signore come noi qui stamattina al di là del luogo fisico ma noi siamo qui alla presenza del signore qui c'è il popolo di dio e il signore vuole benedire la nostra vita e per l'apostolo questo era invece un aspetto ben definito della sua vita che non poteva mancare e viveva magari in mezzo a tanti imprevisti anche quando era sulla barca che lo portava a roma nel suo terzo viaggio missionario sicuramente ne sono successe di tutti i colori cose che lui non poteva prevedere e programmare però anche lì su quella barca lui aveva un tempo per stare in comunione col signore cioè cercare la faccia del signore tant'è che poi gli ha parso gli ha parlato il signore e poi lui ha anche incoraggiato le persone che erano intorno a lui su quella barca che tutte erano impaurite invece lui è stato l'unico che ha ringraziato il signore ha incoraggiato anche gli altri e questo per dire fratelli che tante volte noi ci preoccupiamo sicuramente di programmare definite tanti aspetti pratici della nostra vita e va bene è giusto e saggio farlo ma a volte poi il problema è che trascuriamo e lasciamo al caso invece il luogo di preghiera figurativamente parlando cioè questo tempo che noi cerchiamo il signore che noi viviamo in comunione con lui voglia il signore aiutarci invece avere prima di tutto questo aspetto ben definito che non ne possiamo fare a meno quello di incontrare gesù nella nostra vita e noi l'abbiamo bisogno ogni giorno fratelli non solo quando noi veniamo qui in chiesa gloria a dio e per noi è la base del credente sappiamo che veniamo da due anni difficili dove abbiamo avuto problemi anche di incontrarci fisicamente in presenza diremmo noi ma grazie a dio per lui non ha mai fatto mancare la sua presenza ma anche come un po dicevo prima anche nella nostra vita di ogni giorno vogliamo veramente che vivere questa comunione meravigliosa e noi possiamo avere col signore che è un dono prezioso che il signore ci ha fatto e noi tante volte la lasciamo invece al caso o a dei ritagli di tempo o quando capita o addirittura a volte se mi sento di pregare o leggere parole di dio no noi non ne possiamo fare a meno fratelli abbiamo bisogno della sua presenza nella nostra vita dicevo prima di gesù quando lui fa questo miracolo con i discepoli che moltiplicherà i pani e sfamerà migliaia di persone quel giorno che era sicuramente un giorno molto impegnativo ed è anche un giorno dove sicuramente c'è stata tanta frenesia di tutte quelle migliaia di persone che erano presenti io mi immagino un via vai di queste persone però gesù più volte sottolinea l'aspetto cioè queste persone se vogliono mangiare devono stare sedute vi dovete sedere a gruppi lo dice i discepoli i discepoli li fanno sedere e poi quando lui inizia a moltiplicare i pani pesci dice dateli distribuiti alla gente che è seduta lo specifica proprio questo per dire che quando noi ci accostiamo alla presenza del signore lo possiamo fare di sfuggita fratelli correndo e tutti noi sappiamo che purtroppo tante volte la vita la società ci spinge invece ad accostarci alla presenza del signore quasi di sfuggita quasi con l'orologio alla mano purtroppo questo fa parte della nostra vita ma voglia il signore aiutarci ad accostarci ai piedi di gesù per ascoltare le sue parole lo vogliamo fare con tutto il nostro cuore marta aveva una sorella chiamata maria la quale sedutasi ai piedi di gesù ascoltava le sue parole noi non vogliamo ascoltare le parole di sfuggita permettendo di dire questo non vogliamo fare sedute di gesù e questo anche nella nostra vita di ogni giorno e paolo certamente era un uomo di preghiera lo vediamo un po in tutta la sua vita in tanti episodi che ci riporta la parola di dio e lo capiamo anche dalla sua sensibilità e bisogni che c'erano delle persone che lo incontrava l'apostro paolo è un cuore sensibile ai bisogni del cuore delle persone perché lui era un uomo di preghiera che curava questo luogo di preghiera nella sua vita e al verso 18 abbiamo letto paolo infastidito si voltò e disse allo spirito io ti ordino nel nome di gesù cristo che tu esca ad agostè cioè paolo ha capito subito qual era il vero problema di questa donna nonostante questa donna diceva delle parole potremmo dire giuste nel suo letteralmente però paolo ha capito qual era il problema di questa donna un problema profondo che non vedi con gli occhi umani ma è lo spirito santo che ti rivela questi problemi e così fratelli dicevo che tante volte nella nostra vita magari noi vediamo tanti bisogni delle persone intorno a noi bisogni materiali naturali visivi ma ci sono dei bisogni molto più profondi fratelli non solo delle persone intorno a noi a volte magari anche le persone vicino a noi hanno dei bisogni profondi e solo lo spirito santo rivela quello che c'è nel cuore e noi e questo fratelli quando noi viviamo una vita dove curiamo questo luogo di preghiera per dire questa comunione col signore quindi lasciamo spazio all'opera dello spirito santo e della sua parola nella nostra vita dove ogni giorno il signore rinnova le nostre menti ci trasforma ci aiuta a crescere noi diventiamo anche più sensibili ai bisogni profondi nel cuore delle persone che se ne ha messo vicino a noi l'apostolo questo lo notiamo anche in altri passi in atti 17 mentre paolo li aspettava ad atene lo spirito gli si inacerviva dentro nel vedere la città piena di idoni cioè lui era lì solo ad aspettare era una parentesi della sua vita non doveva fare niente eppure anche lì in quel momento lui sente il peso della gente che non conosceva il signore voglia il signore aiutarci fratelli che il nostro cuore possa veramente vivere questa comunione ogni giorno col signore che il nostro cuore diventi sempre più sensibile fratelli citavo anche l'esempio prima di pietro e giovanni quando vanno al tempio e loro pregano quando vedono questo zoppo che era per terra che chiedeva le lemosina loro invece capiscono qual è il vero problema di quest'uomo al di là dell'aspetto fisico e materiale dicono oro e argento non ne ho ma quello che ho te lo do nel nome di gesù cristo il nazareno alzati e cammina cioè stanno dicendo a quest'uomo noi non abbiamo l'oro e l'argento ma noi abbiamo qualcosa che vale molto di più di questo che è il nome potente di gesù e dicevo prima fratelli che noi a questo mondo non possiamo offrire sì l'oro e l'argento serve perché servono per tanti bisogni materiali ma ci sono dei bisogni che solo il nome potente di gesù può intervenire la vita di queste persone e noi questo come chiesa del signore vogliamo offrire al mondo cioè il nome potente di gesù cristo il nazareno che salva le vite delle persone quando tu decidi di dare spazio a questo luogo di preghiera cioè quando tu decidi di curare questa comunione e questo rapporto che puoi avere col signore nella tua vita è chiaro che il nemico si scaglierà sempre contro di te il nemico si scaglierà come è successo qui dice abbiamo letto i padroni di questa donna le autorità i pretori la folla tutti che erano presenti il carcere tutti si sono scagliati in una maniera anche molto forte aggressiva nei confronti di paolo e sila perché sembrano quasi dei terroristi per come l'hanno trattato solo perché avevano pregato per la liberazione di questa donna e quando tu decidi di seguire il signore fare la sua volontà di crescere in questa comunione che tu hai col signore sempre il nemico si opporrà a questo e cercherà di ostacolarti in questo e anche qui voglio solo aprire una piccola parentesi perché questi uomini non erano tanti interessati al bene di questa donna che tra l'altro era una serva quindi non valeva niente in quel tempo ma erano interessati al guadagno che procurava questa donna ecco perché si scaglia in una maniera così aggressiva e dicevo appunto che questo per dirlo che tante volte ci sono dei giovani che si sentono apprezzati in questo mondo e cercano magari di diciamo di fare strada in questo mondo sappi che il mondo al mondo non gli interessa nulla di te al mondo gli interessano quello che tu puoi offrire cioè anche le tue capacità i tuoi talenti al mondo gli interessano per usarli per i propri scopi i propri guadagni con inganno dio è l'unico invece che non è interessato tanto a quello che tu puoi offrire ma di interessato alla salvezza dell'anima tua che è ben diverso e lo vogliamo ricordare stamattina il mondo vuole usare i tuoi talenti e le tue capacità per i propri scopi lo fa con inganno e poi ne pagherai pure un prezzo amaro dio invece ti offre la salvezza dell'anima e lo fa gratuitamente perché gesù ha già pagato per te e noi vogliamo ringraziare il signore per questo e questi uomini qui insorgono contro paolo e sila cioè si oppongono gli strappano le vesti battuti con le verde più volte cacciati in prigione è scritto rinchiudetele nella parte più interna gli misero pure dei ceppi e piedi che erano dei strumenti di tortura l'avevano battuti con le verghe e poi gli misero pure questi ceppi e piedi cioè vengono trattati come dicevo prima come dei criminali solo perché avevano deciso di pregare per questa donna e perché era stata liberata dal signore e dicevo appunto il nemico sempre si opporrà a questo e noi vogliamo essere fermi vogliamo dire signore so che sto dicendo qualcosa che può sembrare scontato però tante volte il problema è proprio questo signore io voglio decidere di dedicare la mia vita a sicurezza a vivere anche questa comunione con te daniele quando daniele era in babilonia fu emanato un decreto è scritto in daniele 6 10 quando daniele seppe che il decreto era firmato andò a casa sua e tenendo la finestra della sua camera superiore aperta aperta verso gerusalemme tre volte al giorno si metteva in ginocchio pregava e ringraziava il suo dio come era solito fare anche prima cioè c'è il decreto non c'è il decreto io prego il signore c'è un decreto che lo impedì io continuo a pregare il signore fratelli è una decisione che noi dobbiamo prendere nella nostra vita e tante volte il nemico cerca di ostacolarci in questo a volte lo fa in maniera palese come era qui questo attacco molto aggressivo e forte di questi uomini a volte lo fa in maniera ingannevole come erano ingannevoli le parole di questa donna lo spito di divinazione che usava delle parole lusinghevoli ma erano per ingannare e tante volte dicevo prima anche con noi il nemico fa così e magari ci sono anche dei pretesti buoni che a volte ci prendono il tempo nella nostra vita ci prendono l'attenzione le forze le energie tante questioni pratiche e magari anche necessarie nella vita sicuramente però che magari tante volte sottraggono poi il tempo che noi dedichiamo a questo luogo di preghiera che non dovrebbe mai mancare nella nostra vita ecco fratelli tante volte permettemi di dire noi ci preoccupiamo tanto di programmare tanti aspetti pratici della nostra vita e sicuramente questo è buono come detto prima e lasciamo al caso invece il nostro appuntamento col signore invece dovrebbe essere il contrario fratelli non che noi dobbiamo isolarci dal mondo e vivere non pensate che sono un mistico però che il signore ci aiuti veramente a avere questo tempo prezioso che noi abbiamo bisogno ogni giorno col signore perché è proprio lì che il signore tocca la nostra vita è proprio lì che il signore ci dà la vittoria è proprio lì quando noi lo incontriamo nella sua presenza che lavora nella nostra vita e ci dà le forze per seguirlo per fare la sua volontà dicevo prima gesù stesso ci insegna questo quando lui era nel giardino del gezzemani e pregava il signore perché sapeva quello pregava perché sapeva quello che doveva affrontare ed è scritto o regli essendo in agonia prego ancora più intensamente mi ha sempre toccato questo passo perché gesù stava pregando dandoci un esempio a tutti quanti noi e nonostante questo però lui sente il bisogno di pregare con ancora più intensità e così tante volte anche noi fratelli non so quello che tu stai vivendo nella tua vita magari stai anche pregando però aiutaci signore a pregare con ancora più intensità ancora di più lo vogliamo fare qualcuno della frate ma tu non sai quello che io sto vivendo la situazione prega il signore lo stai facendo prega ancora di più fratello sorella perché proprio quando noi andiamo in questo luogo in senso figurativo c'è la presenza del signore è lì che il signore tocca la nostra vita è lì che il signore ci dà le forze e il signore interviene in nostro favore e concludo fratelli poi al versetto 25 non l'abbiamo letto però paolo e sila vengono messi in prigione scritto verso la mezzanotte paolo e sila pregando cantavano inni a dio e i carcerati li ascoltavano ecco anche in questa prigione dopo tutto quello che avevano passato paolo e sila come erano stati maltrattati però anche in questo luogo immagino questa prigione fredda buia in ospitale anche quello è un luogo di preghiera per l'apostolo paolo cioè anche in questa circostanza loro riescono a cercare il signore a lodarlo anche con dei canti che tutti possono ascoltare e così fratelli anche noi vogliamo ricordarci di questo cioè non esiste prova non esiste difficoltà non esiste circostanza che possa impedirci di realizzare questo luogo meraviglioso che è la presenza del signore fratelli nella nostra vita e noi vogliamo chiedere aiuto al signore il salmo 141 è un salmo che scrive il re davide ed è una preghiera per la liberazione quando è circondato da uomini violenti è scritto e questo salmo poi al verso 5 dice io continuo a pregare mentre fanno il male cioè davide è circondato da uomini violenti però anche in questa circostanza lui dice io continuo a pregare continua a cercare il signore e così fratelli anche noi tante volte ci troviamo nella vita essere circondati e viviamo tempi dove ci sono tante circostanze intorno a noi che ci spaventano o tanti uomini violenti o situazioni violente potremmo dire ma nulla può impedirci di andare alla presenza del signore cioè nulla può privarci di questa comunione che noi possiamo avere col signore perché è solo per la grazia del signore che noi possiamo andare alla sua presenza dicevo prima lo stesi 1 22 è scritto oregli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte per farvi comparire davanti a sé santi senza difetto e irreprensibili noi vogliamo ringraziare il signore perché se possiamo stare alla presenza del signore se possiamo godere della sua grazia nella nostra vita e dell'opera sua non è perché noi abbiamo fatto qualcosa di buono ce lo meritiamo ma è solo grazie al sacrificio di cristo gesù lui è morto proprio per riconciliarci al padre e se noi oggi possiamo avere comunione è solo grazie all'opera di cristo gesù e noi lo vogliamo ringraziare il signore e fratelli se a volte noi non abbiamo la forza o ci sentiamo scoraggiate proprio perché forse stiamo trascurando questo luogo di preghiera questo luogo quando noi incontriamo il signore e voglio concludere che ecco non so quello che magari stiamo vivendo nella nostra vita quello che tu stai vivendo forse a volte ci troviamo in circostanze come era l'apostolo paolo in questa prigione con dei ceppi i piedi quindi lui era bloccato anche fisicamente non poteva fare nulla eppure anche lì lui ha realizzato la presenza del signore l'incoraggiamento del signore la comunione col signore altre volte invece ci troviamo in circostanze all'opposto come per esempio quanto paolo era su questa barca che lo portava a gerusalemme e questa barca che era sbattuta dalle onde a destra e sinistra in mezzo a una tempesta anche a volte anche la nostra vita sembra un po come questa barca che va da caso quasi sbattuta dagli eventi della vita eppure anche lì lui ha realizzato questo luogo di preghiera c'è questa comunione col signore indipendentemente da quello che tu stai vivendo nella tua vita fratello sorella e proprio quando noi andiamo ai piedi del signore alla sua presenza questo luogo figurativo permettetemi dire così di preghiera noi possiamo realizzare la vittoria le forze la guida il sostegno l'incoraggiamento da parte del signore e questo è quello che se ne ha messo nel mio cuore per per questa domenica fratelli che il signore ci benedica amèn addio sia la gloria grazie 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 grazie